quante volte li abbiamo seguite quelle luci silenziose come marinai sulla rotta di un mare senza porti quante volte le abbiamo interrogate quanto futuro abbiamo chiesto ai nostri segni zodiacali e quanti desideri segreti abbiamo affidato a una stella cadente quei punti luminosi sopra le nostre teste non sono poi così distanti basterebbe guardarci dentro un concerto alle stelle nella notte di san lorenzo a romena simone cristicchi e amara di fronte ad un pubblico di circa 3000 persone hanno regalato un evento unico al loro amato casentino nel segno della musica in un ambiente naturale mozzafiato è stata questa la proposta della fraternità di romena organizzata nel grande prato della pieve romanica con una meravigliosa vista sul casentino i due artisti sono stati accompagnati da oida orchestra instabile di arezzo diretta dal maestro walter civilotti si per noi è sempre davvero un piacere ormai sono tanti anni che collaboriamo con simone cristicchi e anche con amara sono due artisti veramente per noi speciali e ci siamo legati veramente in un'amicizia in una collaborazione molto forte e stasera è stato insomma molto molto gratificante per tutti credo si è visto nel palco ci siamo divertiti siamo stati molto uniti e abbiamo fatto bella musica insieme che sia benedetta che sia benedetta 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 benedetta